Stamattina la Digos, su disposizione della Procura di Salerno, ha dato esecuzione all'ordinanza emessa dal GIP della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Residenza, a carico di due indagati, entrambi tifosi del Foggia. Ai due sono contestati reati di resistenza e lesioni aggravate a pubblici ufficiali in occasione dell'incontro di calcio salernitana-foggia, disputato allo stadio Arechi il 23 dicembre 2018. In quella data i due, alla richiesta di esibire i documenti avanzata dagli agenti, hanno tentato di scappare con l'intento di rientrare nel settore ospiti e una volta bloccati hanno reagito con violenza colpendo con un'attestata un agente.